Aiutateci ad aiutare, stiamo cercando di fare una cosa molto carina, quella di far arrivare il video messaggio e lo diamo noi, lo offriamo noi gratuitamente a tutti i bambini in difficoltà. Quindi se ci fosse qualcuno in ascolto, che comunque quando guarda questo video ha voglia di mettersi in contatto con noi, ci piacerebbe regalare un video messaggio a tutte le case famiglia, gli ospedali pediatrici e quant'altro. Fino a un certo punto ci siamo mossi noi, l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo, perché non riusciamo a dire di no quando ci arriva una richiesta di questo tipo. È un piccolissimo, ma davvero è un piccolissimo gesto che a noi non costa nulla, ma che comunque agli altri regala una gioia infinita e io credo che quei bambini, ci sono alcuni bambini che non hanno più bisogno di altri. Quindi se ci fosse qualcuno che ha piacere di mettersi in contatto con noi per darci i contatti di una casa famiglia, di un reparto pediatrico o quant'altro, noi regaliamo un sorriso, un'emozione ai bambini attraverso un video messaggio personalizzato del nostro Babbo Natale. Nei panni, diciamo così, dell'assistente del vero Babbo Natale, venerdì 11 dicembre alle 20.05 su Rete55, l'organizzatore di eventi Domenico Marchetti lancia un appello per far arrivare tramite le moderne tecnologie un messaggio di auguri ai bimbi che più ne hanno bisogno. Nell'anno in cui non è possibile andare a trovare Santa Claus al Polo Nord, l'imprenditore di origini campane trasferitosi a Bustarsizio con la famiglia ha infatti aperto virtualmente le porte della casa di Babbo Natale ai piccoli, ma anche ai grandi, che sognano di ricevere degli auguri decisamente speciali. Il Natale è importante per i bambini, ma quest'anno io ancora di più sento l'emozione dei genitori, degli adulti, dei nonni. Ti racconto questa cosa, l'altro giorno mentre giravamo i nostri tanti video con il Babbo Natale per le tantissime famiglie, tra le varie richieste che ci arrivavano, normalmente arriva il video che i genitori chiedono per il bambino, per i bambini, per i fratellini e via dicendo. Ci è arrivata una richiesta molto particolare che ha fatto emozionare me, ma anche il nostro vero Babbo Natale, perché è arrivata una richiesta da figli che mandavano il video messaggio per i genitori, per ringraziarli per tutto quello che avevano fatto, per ringraziarli per come li avevano cresciuti, per ringraziarli per l'educazione che gli avevano dato. Ti assicuro che è stato molto molto emozionante in primis per noi e in secondo modo per loro che l'hanno ricevuto, l'hanno fatto vedere i genitori e ci hanno ringraziato con un messaggio molto 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 bello.